Per questo progetto ci siamo affidati all'atteggiamento dell'artista, alle sue opere che rappresentano la natura. Ci siamo messi al suo servizio lavorando con il nostro legno che proviene solo da foreste sostenibili come la sua pittura. Il nostro lavoro al servizio dell'arte ha dato vita ad una casa che racconta la storia di Vivian Sutter. Una storia fatta di amore per la natura creando un connubio tra bellezza e sostenibilità. Grazie